Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è 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 www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è 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 www.mesmerism.info E'ecele tau o le fo'i muangana malea fuwa itau O le tue maleanga, malema fuwa anga saamuai Wa omanatua E'fa pena se la ngona o papali il tampa ua e le polang Il teo viungo l'uwa l'ide E'ecea o la tato sanga fa'atalia iato ila ipa E'ecea o la tato sanga fa'atalia i la ngona O sa'ilele mali elengoyl tamaluo mail pa Lea lepule rimoni Le tamaluo mai fare-alto Ai si'a E'le siria' e ila uwa I'ma tani sa'amuai E'ecea o la tato inga e che sono in grado di farlo il frutto di eropipino e che sono in grado di scuola ma sono in grado di farlo a me e poi lea se tassio nuspe paia vai tau Samoa e le tautua Samoa na vala au lia fa'apitoa i au le vala na fa'upuwaya le heropipi in a ia'o uawai le mafuanga le sa'o tu'ua ia'o tearoa ai au malangatu i Samoa ina ia'o uawai Samoa e malauta a puainga i le aso sfumareono o i ulaita sa iwa iwa sfumare iwa se ipatpati ai ma molima wina, fa'amau mawina i ale lua se furu utousanga talo anto lei maire heropipi in a ia'o ma capiteni in a tauti fo'lauia le sa'a fo'lau o le ta'atnu uia vaitao o le aatele i aise fa'am tala nga pali imunimui mai i le auhoaute ma le au tura ngona aile neta au li umarua o le ta'apuolka lamia Samoa e ta'ulava aile nga pali imunimui ile a nga o le fa'aftai al ka'apuolka lamia le fa'amaloo le anga o lok tu'u alangatu papari il kampo ua aile po'lango ile a'ai o po'lango i tonu au kilami inu uusiline ua salalawi le ea aise aise o fsota inga fa'an eionpo Samoa e tulanga ua mannino aile fina nga lo o le afionga ile li minsta o ta'angata pasfika o le sui minsta o le vaifafo le maroni uusila o selupe fa'lele a Samoa o se ta'ama fa'anaua le atu na si'i lona au ina ia fa'peaa o na maua avanoa e mu mori aile fina nga lo sa'amo po'l poto ai maise o ta'angata pasfika a i totonu ole maato fono o upu fai ole maaroni uusila talo fai o ua mannino lana fionga le neilupe fa'lele al da'atnu uusila aamuaa e le afionga ya aupito su a willem seo eleto e tau fa'iluina e papali itulanga e pei on a yai le au omnanga maltautuangal neita mali ii Samoa ai wao omai li ta'imi ole musumsunga le anganga ole tuwa ilana au au ta'amuaa la fo'a i aupenga lo tau la fo'a i aupenga lo tau la fo'a i oloko iayisi tulanga oloko uvala awina fa'le ai le anga oio ole matai Samoa ai whamayari guangana le tato ua puulea e matai Samoa eo ua fa'amavai lana fionga ya aupito su a willem seo mai upu faiu malo itulanga au te arone se fulu lima tau sanga ilio se ilio se teimi pupu u sa amuaa ua tau tino fo ili solol da maloa mufape mai a Samoa potu potu paase fika maa Aotearoa ili teimi ne neise i oa oa tulaba ili tau sanga fo'u ia aapeli la lua afe lua sumalto e anga ipea le au au na i lea itu malea itu malea itu malea itu oa Aotearoa e fa'a tino le bala au nina a umaloa ili fai ngafiwilinga mali fai ngapalota ili teo sanga fo'u sabwa ona alo ia lua liha o le fa'a maa venga ilana fionga i deli mii staa otongato pasifika ah ai o se sui mii staa o le va'i fa'fo o le maa luo ni usila mua mori le fa'a fitai mua mori le fa'a malo ila ufionga i deli mii staa la ufionga ao pito ah le sifu lima tau sanga sa etu lai maiai maavea oi mafaipule ole aai o tangata au nilei tangata papoto peo na fa'a le oina ma fa'a upuina e lana fionga le aai o mangele le ta'ungu ungo ole lalo langi i totonu aotearoa ah ua marie o marie saao ua fa'a malo fa'a fitai ila ufionga e tusa male au unanga male tau toanga e toa e fionga iaupito ahi orifisi samopopoto 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 ila uouona benet YO il rio d'un uomo, l'anatoutua e i uppoi tono aotearoa e molita il fina ngallo samoa mattangata pasifica o oe lato. è un malo primo ai match tu fai e il malo va mai usciare il l'pero dava ma non mi disposte ma non mi disposte a un muller il tempo che c'è l'esporto il rea non noi oh sua il taba autofono ai sambo ah to' l'eva a fule l'eva tu l'olò ma non fica più grande fare tutto il lavoro ma non cosa fanno bene ma non sono bene i due l'anma stavano fa i pieti a un mille pauremano si a ti sei e si ha voler da vai le fia un agitore portrenza su za回 ah vai matar ma ne no mantavai ora La verazione ai avvito è una cosa che si tratta di una malattia, ma non si tratta di una malattia. Ma non si tratta di una malattia, ma non si tratta di una malattia. o a guaipea le neite mali o le dalle il mano malo malo ma il tuo lato e maio fenga malo al lepa era tutte capitanina le savo a te aloja e io fai l'età porca l'ambe ma l'età un murio a papà lì i upufaio malo salmo ah ecco è subito e fai che assente l'età usano fuori al lepa . . e questo è sempre più forte. Quando il potore di farlo, si sono ancora. E oggi, quando si riuscita a un'evolta, si sono ancora una nazione, si sono ancora di attacinta, si è ancora più grande, e se, quando non si riuscite, inizia a un'evolta. Ma sono sempre più forte. Questo è sempre più forte. Ma questo è sempre più grande. Ma questo è sempre più forte. Ai, ai, se ha uomana tuai, le nei tamali i ordati, o se lupe wha lele a Samoa, le a fioga i aupito, sua, uilansio, tongi li so, wha marai. E toa ale loco, le anga wailona tu muai, tu loura ufafonfonga Samoa, a, le mamaluo aika. Oa avanoa oa taini, uafina ngaloa ili atuwa il tangata malana e fai. O mau avanoa, o mau avanoa e filo a iai, mafa maupupuai, le vala awina, le faa palina, iles wafa o ai. Ilea fi o anga ili tupuanga, maleseo si o manga, o le ngafa o malefaya. Faa taini, a, o mau avanoa e filo a iai. O le auga leo au teile, maata, mata, pali, iai mai se foio tu langa e pei o na, faa la viro a iai. Ia, le faa maa baenga. A la fiogna i le li faipule, po, la naciogna i le liministar. Ia, o le fei ngamaloa le peitonu a oteolone. Ia, o iam sui, o sa amoa, i upu faiu malo. Ii tupangu, o aotearoa mane maota iwerimtoa. Ia, o iillah, o i Graa. ora, se lo succede con i nostri amici. I wovivenci la cosa che avevano avanti a stare, chiaramente non ero, non ero un paolo. C'è quella che aveva in un'occhiata, un paolo all'a scelto le persone. Una libertà di farcchia. Si leggerla, non era importante che quello che i nostri amici non osserva. Io ci ho con una nota. So, si E tu ala ngai ilato a wala vare le aofoa i maafola o le angali lehimale a luffa o Samoa potpoto uale ngatai fanua. A o fafo mai o Samoa. Onei le tau ngowhie tasitesimale lua miliona. Ua tau tino iai lana fionga ila Presidente. A o se vay ngatui pe emana o miha. Ile faa tino iai. Oale ngata o tau wa valele, o tau wa falitan maalo, o tau maafo a maso sa mea. Se fata ngowhie ilo manak o Samoa. Ilo oto fiaoppo. Soongi. Ilo oto fiafusi. Se militino o faatase. Le pa iamare ma malua o Samoa potpoto. A. A ea tamafanau sa o latu tau ina. Ile taua lele o tu maati e ai Samoa i le laro langi aloa. A whaye moni ilo walofa. A whaye te manatu ifo o manatu anee. E whia tupesa e whaawina. I fua. O ofu. O isi ano ano mea na saunia el au matapiile. Au seinga Samoa. He 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 he. Ioi. Well, vai a ahi seta la a. Iales seene pa Papa A. E a us va. Är e foa a imao foa. Y ata u lau uva amoh普ara. Ia tau lagu a faamue mue. Ma huri eye len ga ga malomo a lefaaftari i aso su mue le fitu. Asoto kna y Iole bellazo lence a wakwaaey. Ia, ole a fai a i l'ai singa, ole a fai a i l'ele teofoni, e ole? Alana fionga le prestene, a mai se fo'oi, oi la to'o lo fa, maugpoa le lakpiliki l'itaat nu Ia ualava tu la ngai pei una e fa, fonga fonga mai, ole na uasala la wi api ufoni Nga ngagur ea, ia tu la ngai pei una ea e Maugpoa le maa na konga, maasala li ngamalo, a tama fa' na uo sa'o Ole autuo le launga papari ili tampo ua a ea pola Ole luas fulu tau sa'o ngaa, o tu lai mai ili heropi pilato, te capitanina sa'o 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 Maa fa' na tuina, olea luas e fulu tau sa'o ngai le aso spumale ono, yu lai ta siivaiva suma la iva a Na liu aai le vai o sina Na fati toto ai, ua le fati sina Nga luo ngata il fane Ta alofa Ta alofa Olea solava lea Na tangatava leinai 습urua lea Na tangatava lea A lea Na tangatava lea Na tangatava lea è vero amministra, o nga giovano te le al dada. Elefai ngofie, ua manino ua fai ilangii, ua u mai fo iolato tua, ua le ngata, le affio ngaila amministra, inao na po, manata usanga sa amoe. Ua, a oi la ua sa fa pena o na tua iha, i tu langa lava e pei una iai. Leonga oonga ola nga upu sa atula imai, ili aso shumare ono. Oio lai tas iva iva shumare iva. E pei una mori mawina e matau pa ili ngai e tal noato. E ole? O leo puto tino ola ta porca la mea sa amoe. E tele tay misao uo, osa fa ihai, ili asetalai ngayale, a fa vitale. A obe o ia amministra, o nga dueng au lata. O leo puto tino o pali, ili asetalai ngayale, a lai titi e tele, a o ii, a oi, a oi, a oi, a oi. Ia, awwala fa a soli tu lazono. O loo fa ngayayalea ngayalea ngayale, a ili asetalai ngayale, ili asetalai ngayale, a ii asetalai ngayale, o xo oa ii asetalai ngayau. Si è un obiettivo riparo il tempo e volano. Ma se è una fatwa o il loro ai, è essere meno tattata, se si è un obiettivo, se si è un obiettivo, se si è un obiettivo, e se non lo fanno. La cosa che si è un obiettivo, si è un obiettivo riparo, in mei e tal no saia foro foro in alexis su suina ora non speppa le nea pari e anno noi le mano si angolo e power way limo Ora, l'organismo è goza. La vita è piaciuta. Quella cosa? Ognuno avviene il problema, l'organismo, l'organismo. L'organismo è molto interruggito. Ora, il tempo è tutto. D'essere sempre il problema. La vita di questo tipo di un lancio, il tempo è avvenuto la mente. la città della città. La città della città della città e il suo attore e il suo attore e ai, il fetore ngayale a fai tula ngai pei on tutofi ai il vai tau o lana fionga il totori e adhea o minista o ngare a tatou maitawina mea sa tupu i sanno le anga uatara noa tui la epa e au o na wha amatara e au o na longo sanno inimea e tau te sila fia va oio ma vaya tu la nacion al totori i tu lai mai tui la epa il fai un al siva i va sumar valu fa penaloa ang ai mai il siva i va sumar i va samwa ah na ia toi tofi ai lana capeneta pesuya i ai i etula ngai pei on a yei lea minista ma lea minista ua fe seia iso o inana maafuai on a seia tu le afa a vea ro le afa minista o tinama tamaita ah ai tu umai le afionga i aluang laul lewa ulakam ile minista o ngare nore nore lea minista adio nore 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 titi ele nore o nshilago nore 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 o miliona mormiliona 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 nanno un'ottocchia e fai talo milion am milion o tupe a sanno talofate aso su maleono io lai ta si va i va suma ila e le fa a naluita Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è 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 www.mesmerism.info o se fissi che l'eleve o avesse inaltino l'uangalau ma l'horsafo a tino hai le pat patie o le luo se fuluto sanga al heropiti o lesi fissili al capo l'game e aonatato sili nga ito l'elepa e si alava na fa a wawai la pare pati e si a napipesai masisivai la to nai aile uleo sa mawe pari ilitampo hua a elepona pera o no oufaiyato rounelfaa funfonga ai a wale uleo pari ua mateai na outuri turi ya e l'atto ua o nana e le affa se i tautu ufattasi ne ta penanga ma se tus tu singa peite iane ma fa nana ule loto sei a nana e mua mua e le falema ah e taumunimuril gavale sa fa penna o na vat wai le tino o la naciona e le dimixta taumunimuril gavale ma nana ufa palii fioiwaa taulaa moliwa malana nuspe pal tautua samoa ai meise ai tu loud fetelenga ya apulu lanspo e aia le tala mua pa uia o tangata na mua mua tus tusia ma faa salla la wina na tautia o le mea o le ale tele i aise wha amtalanga le anga ua manino matalwani ua manino foi lautapua inga samoa ai tu langa a na faa na faa falipuipuia ai le oti wale ingata o luangalau wale ingata wale affa vitale ai faa peafo i fitelenga i atoi ia manai atali i e faa sino i ale affa alati se wale 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info maffia. Le angai matauti. O pineia ma o vengaia ole vai tau. Ole taita inga tuila eppa male heropipi irotai kungu usa. Uau mai tuau ilato. E le fai ngofie. Ile yoenga malta ito nunga pali il tampa ua a ele pola ngosama. Ah. Le anga olo o tuuf si silpea. Ila tau e tau pipi ole idi imal toto. Olo o tangi pea ele ele toto el tangata. Le anga olo o tuuf si li si diai. Ila tau e fa pena. Ona a inga matau le ngafa. Le so tanga. le so tanga. Ila tau. Ila tau. Ila tau. Ila tau. Ila tau. E ha. Ila tau. Ila tau. Ila tau. Ila tau. Ila tau. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 I a fù a se tapo Nei feala, feala, feala Tupu Maola pela mona Ona fetuotua na iailea Talu Fatia ua toa nate Paolo na taunuunga Oleola Ma le malosi Wa lea Wa o manatu saa moa ilautapua i fathangfonga yoo Ia isi fathangtala ngapipali Dehawaw tele maltele o tustusinga mi fathangmonga Ia ina umavai Le vayaso mua mua talun tangatavaleina Lefio ngayleli minsta Ile vayaso mua mulio yulai Tasi iwa iwa sumariva saa moa Ah Na mua mua ai Lokaina e leo leo Le fetelenga iatoi Ile asolua A asoluluolo Fa pena O na ngārulu e pēo Ia i pēa Feetelenga iale Awha vitale I lona ofisa Ma fai ai foi Ia le fono A le kaapin ettei iato Sanga saa moa I laloliteikti inga tui lai Ile asoluluo Ma maina fono Kaapin ettei Na jai vee singa na tu E jai mea saa tuli pai Ile ava tuuman au mai Ile vao le li paali Miya iwa i tausaha moa E le sunga jatui lai pa Ah Ma le fetelenga iale Awha vitale Ai le fong tanga Ile au huli Le asolulu lavao Le asolulu lavao Le asolulu muli O jau lai saa moai Tasi iwa iwa Siu mele iwa Kaapin ettei la taat Ah Ta e le luo Ai ua loka E leo leo Le fetelenga iale Awha vitale Ai ai siya paali iwa tala noai Ifa pei lau taa pua Ifa fong fong asa moai Pei labo na ou taa hua Le mua ngana Malifatu ngana Ipe Una mau a mai Ita maa loa ama Ah Mai ele faatali matangi Ia moa Ifa pena Ile faatali matangi Ia atu ila epa Ma mea alo tula Imaile baitawi Ua manino Ila utapua Ifa fong fonga Le baitao Nei ma mea Watutupu saa moai Ah Elai titi Etele mano noai Ia atu ila utapua Ia atu ila utapua Ia atu ila utapua Ia utapua Ia utapua Iba pali ila utapua Ile polangosama Ah Elea solo mulietu alanga Ilau fiatalenga Lau uafo le honga Efeintah Oye ole hamamu Aduyatu Elea solo muli foe Ipa pali itu Ia utapua Nau Iate oio Ia Ia Netisio Maa Outou huma O fa pena On outou Nella storia che lo spiega dal suo lavorare, che si è spinta il mio tutto questo. Perché non mi piace sentire. E allora non mi piaceva, perché non mi ha la migliorata per quelle delle pulevino. Certo che quello di questi mondi sono insidere un milione di milioni di milioni di milioni. Qui mi ha preso fatale a quelle delle persone! Non si può fare anche la mia vita, ma non si può fare anche questa cosa. La mia vita è la mia vita. La mia vita è la mia vita, la mia vita è la mia vita e la mia vita. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 c'è un sorgere e che ha messo un sacco non so faccio il tutto e non a farlo io ho scopo di questo il mio figlio ho scopo di questo lo so io se lo so io faccio alla fine e ora non è ciò Oltretto è fuori mai, è stato il sabato, è fuori mai un solito lato. E faccio una fuori mai, da un'altra cosa, un'altra cosa, un solito lato. Ora, ho potuto tienne il capo, perché la mia sabba è. a fai sa i suoi fuomaita si va a una scuola e pionta a ue tui la epa se io o ma il ta si va valsu maluona fa a tu uai le heropi pise io o ma il teo lima luone o le upo tautino ah ele hai se iota ele hai ima se ngaguara ele hai se me o fa pena o na nefu ilau sila sila ma lau va a vai a fai na e suoi fuomaita si va a una scuola tu tautasi te atmu si a il tanga vai si va a una scuola lua o o ma il ta si va valsu maluona fa a tu uai heropi pisa ah se ua ma tuu alu tu suoi fuomaita ei saa ima na tuu ai ele tam malten toa fa tau sanga me saato tupu maile lua tau sanga o non tup tupu ai ei saa a e si ae olingi ai ma mimilo e si ae e tui la epa o tau fina ngallo mo tatu ula ngona imea saatu tupu mai ili saa valinga mani malanga na taita ai ma kapiteni ai ele heropi pise ili ma loutu to tassio sa loa ai saa oficilia oficilia ai ole luia pa pali il tampa ua ai ele polango ili ano noa o tama fa na ua samoa sanga lua i tron o le public service salta ano noa ili la to ua malanga ese na samoa po no nofofo ii samoa saatu tuli fa manu si ese tui la epa ah mali heropi ai saa ai saa tau tuli tuu alangai lewa ma wava noa uatu sa ole solol di maaroa mayipa tau watu fa ilua ya samoa ni meo utu manatua ina melele meleanga mefa lelele melega ian sospoi ngamia la maa ea tau jia samoa olo ta tuu taia oline olo ta tuu taimilinei ma olo taimilinei olo etua ah ai ua toise fuluwa yasho ta tuu pat patia le fa ola tanga ota tuu pata le pepe ola teusmas tatu te tuu wai mo ta tuu ala mo ta tuu taumilinei mo ta tuu taumilinei oli ua spulu toshanga le fa manu queen olo heropi aso spulu wono yulaitas iwa iwa sumana iwa mani vala wino papai ea aua ose taia o poisa ole ngato ile heropiti ae ole atunu uuato ne ba sa pasifika ma le la lo langi atu iina uo ta ngata valina iina ua se minstao iina uo la ma lo saa moa ta lo fae le azionga yagwa alaw le va uuka ma fa falle pui pui aii ili hoti ili solo a toa Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info